Un giornalista ha chiesto a Lewandowski riguardo la sua relazione con Messi e il polacco non è riuscito a nascondere il suo fastidio. La tensione tra i due si percepiva già durante la cerimonia del pallone d'oro del 2021, quando Messi ha vinto il trofeo. Il fatto è che anche la Pulga credeva che colui che si meritava di vincere doveva essere Lewandowski, soprattutto per l'incredibile stagione che ha giocato. Voglio anche dire a Robert che è un onore per me combattere con lui. Credo che ti meritai il tuo pallone d'oro, che l'anno passato tutto il mondo è stato d'accordo che fuori il ganatore. Credo che Fran Fulval dovrebbe darti il tuo pallone d'oro che ti meritessi e tenerlo come te lo mereciste e te lo ganaste l'anno passato. Gli elogi di Messi non sono piaciuti per niente a Lewandowski. Il polacco non ha avuto peli sulla lingua e ha detto che l'argentino era un ipocrita. Ha chiesto un pallone d'oro per me, ma non mi ha votato per il De Vesta. La scintilla si era già accesa, anche perché la Pulga non sarebbe rimasto in silenzio. e avrebbe risposto all'attuale giocatore del Barcellona. E in lo personal, a mi me molesto bastante quando Lewandowski declarò lo che declarò, dopo di tua generosità nel senso scenario. Vos le diste trascendencia? Lo tuviste che perdonare di algo? Vos le diste importanza? Non, uno mussi dire lo che vuole. E ovviamente non può E Espresarsi e dire lo che vuole, essenzialmente non comparto lo che lui ha detto, però non le ho mai più importanza. Oggi è che sto qui, che dico lo che vuole e non mi interessa. Però la parola che ho detto in quel momento è un coraggio e perché lo sentivo così, così realmente. Le frecciatine arrivavano da tutte le parti e l'Ewa è esploso quando questo giornalista gli ha chiesto riguardo la sua relazione con Messi. All'attaccante non è piaciuta quella domanda e ha fatto scoppiare tutta la sua rabbia contro di lui. Ma solo ho chiesto. Ok, ho chiesto in inglese, ma perché non dovete fare la scoperta? Quando mi e Messi è tutto bene, non ho niente per lui. Non ho mai avuto. Perché? Dove la questione è così? No, solo perché ci hai detto di quello che messi ha detto, che messi ha detto, che messi ha detto che ho bisogno di vincere il Ballon d'Or, ma poi non mi ha dato Quando mi ha detto questo? Quando mi ha detto questo? Quando? Quando e quando? No, non mi ricordo che ho detto così Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok La cosa certa è il momento in cui si sono incontrati faccia a faccia. È stato il 30 novembre durante il Mondiale del Qatar. La partita sarebbe finita con un risultato di 2 a 0 a favore dell'Argentina. E sarebbe finalmente avvenuto il tanto atteso incontro tra le due star del calcio. E anche se non si sa cosa si siano detti, l'immagine di quell'incontro c'è stata ed è stata immortalata. Perché senza dubbio tutti volevano sapere cosa avevano da dirsi, dopo tutte le frecciatine che si sono lanciati durante la premiazione del pallone d'oro e del premio The Best. Nonostante ciò, la cosa certa prima della partita era che né Leua né Messi volevano entrare in polemica. Per cui, così come ha dimostrato il polacco, se glielo chiedevano in conferenza stampa la risposta non sarebbe stata positiva. Per cui, perché non dovremmo fare la risposta? Perché non dovremmo fare la risposta? Perché tra me e Messi è tutto bene, non c'è nulla per lui, non c'è nulla per lui. Perché? La questione è stata così? Non, solo perché ciò che hai detto di quello che hai detto di Messi, che hai detto di quello che hai detto? Che hai detto di quello che hai detto? Che hai detto che Messi ha detto che ho bisogno di vincere il pallone d'oro, ma poi non mi ha dato. Quando ti ho detto così? Quando ti ho detto così? Quando ti ho detto così? Quando e dove? dottedico? Io penso che Quotava e se lo pens контрie che le pensiamo... Alla in più ora non lo pensiamo bene 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 bene! Nooo Ma qua 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 qua!